Onorevole Mangiacavallo, la convince questo intervento della Regione che ha annunciato un possibile intervento da parte dell'IRFIS per le terme di Sciacca e di Acireale? Sì, c'è quest'idea che porta avanti a quanto pare il Presidente Musumeci da qualche mese questa interlocuzione con Feder Terme che poi dovrebbe concretizzarsi con un interessamento di Inail a quanto abbiamo capito, stiamo a vedere, a me che il pubblico si interessi al nostro bene che è un bene comunque che rimane un bene pubblico, a me piace, il fatto che ci sia la volontà di mantenere pubblico un bene a me sta bene, perdonate il gioco di parole, quindi bisogna capire se intanto questa cosa se va in porto, se c'è reale questo interessamento da parte di Inail a concretizzare questo investimento che per loro si tratterebbe di modificare quanto l'assetto della loro azienda e quindi puntare sul turismo termale. Rimane in piedi ovviamente saltando questa possibilità l'ipotesi di un nuovo bando che abbiamo visto non ha portato nessun risultato durante il periodo, ovviamente non era quello propizio che abbiamo vissuto in questi mesi. Un paio di mesi fa Sciacca, l'assessore Armao, come ricorderà a Sciacca Mare, aveva annunciato questo bando entro il mese di dicembre. Adesso cosa accade alla luce di quanto è stato annunciato dal Presidente? Sì, allora il Presidente mi ha detto che comunque il bando rimane una possibilità, nel senso che comunque c'è questa interlocuzione avviata con Federterme, Inail e quant'altro e a gennaio ci sono ovviamente degli incontri, se questa ipotesi non va in porto rimane quella del bando e se il bando non dovesse andare a buon fine dovrebbe mettere in atto dei piani B, C, tutto quello che io dico da tempo, nel senso che prevedere oltre il bando qualche altra soluzione. Ok, questa è stata una sorpresa per tutti noi, questa possibilità. Io l'accolgo con favore fino a quando ovviamente non conosciamo i dettagli, sicuramente a conoscenza dei dettagli poi ne valuteremo tutti, con la città quello che è la cosa migliore da fare. Nel concreto questo intervento di Inail, in che maniera potrebbe essere utile anche per chi si vorrà presentare per la gestione delle terme? Perché poi ricordiamo che un privato che gestisce ci vorrà sempre. Questo non lo so, io credo che Inail potrebbe bastare nella gestione delle terme, io non so se il privato a quel punto potrebbe essere un partner, è certo, c'è anche feder terme nel pacchetto, quindi è tutto da valutare. C'è da considerare il fatto che con l'opzione Inail andiamo ad attingere a tutte quelle normative, fondi nazionali che potrebbero essere un investimento per questa struttura che ormai ha bisogno di interventi importanti. La sua parere non continua comunque ad essere lasciata fuori, anche vorrei dire le istituzioni locali, perché questa notizia è arrivata come un fulmino al Celsereno quando eravamo fermi alle dichiarazioni di Armao del mese di ottobre che delineava un percorso diverso. Allora, io ero fermo anch'io al discorso del bando, quindi non so se il Comune ha avuto delle interlocuzioni diverse rispetto a quelle che ho avuto io. Sicuramente il fatto che il Presidente lo abbia partecipato è sicuramente un segno di rispetto, anche perché gli incontri si faranno a gennaio. Quindi che lui abbia avviato un discorso e che magari non c'era nulla di concreto e questa cosa potrebbe di fatto concretizzarsi nei mesi successivi, comunque ci offre lo spazio per poterne parlare. Siamo a dicembre, a gennaio ci sono questi incontri, quindi abbiamo questo mese di tempo per poterne parlare. In alternativa rimane soltanto il bando, quindi il fatto che ci sia stata avviata questa procedura nel corso di questi mesi, che noi non siamo stati messi al corrente, magari vuol dire, io spero che sia così, che non c'era nulla di concreto e magari qualcosa si concretizza in questo momento. Un'ultima domanda. Lei ha sollecitato risposte sull'antiquarium del Monte Cronio. Quali sono state e qual è la situazione ormai a fine anno? Ci sono tante questioni che sono rimaste pendenti con quelle che riguardano i beni termali. Ricordiamo anche il modelaggio, perché in questi giorni è oggetto del bando e dovrebbe andare ad essere venduto ormai. Sì, l'antiquarium doveva essere oggetto di interventi entro quest'anno, cosa che non è avvenuta. Siamo ancora in una fase in cui non capiamo quello che sta succedendo, se la progettazione è ferma, se hanno completato. Ho chiesto appunto delle lucidazioni e spero che me le diano quanto prima, perché si attendeva entro l'estate il completamento della progettazione e quindi l'affidamento dei lavori. Entro fine anno la riapertura dell'antiquarium e siamo ancora alla fase di progettazione, quindi siamo molto a rilento. In una prima lettera che mi hanno mandato nel mese di luglio, credo, agosto, mi hanno detto che c'era il problema relativo al rallentamento causato dall'emergenza Covid. Covid. Vabbè, è tutto rallentato per l'emergenza Covid, però ne sono passati altri sei di mesi, quindi è chiaro, dobbiamo sapere quello che sta succedendo.